al successo di mirabella eccoci qua con mirabella lei in attività da quanto più o meno dieci anni sempre con lo stesso stile stessa tecnica che si è voluta nel tempo inizio io sono acquarellista lavoravo su carta e poi con il tempo mi sono stancata e mancava la texture e mi mancava questo proprio dunque ho sempre l'acquarello nella mia anima e lavora con acrilico un po di olio vediamo sono dei nudi mi spieghi mi spieghi allora tutti che si lavora sono su della c'è sempre una barba con acquarello su tela uso anche molto il gesso ma il gesso sul dipinto il gesso sul dipinto o fa scultura dentro si 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 quindi fa spessore perché mi aiuta ecco la spiegazione di base mi aiuta con l'acquarello puoi immaginare l'acquarello su tela se ne va se ne va e quindi il gesso lo fissa lo fissa un po di più e fa questo rilievo che fissa un po di più diciamo e poi la tecnica l'ho inventata io non lo so però un po perfezionata perfezionata ho altri lavori un po più difficili ma qua è proprio il nodo alla femminità come si dice in francese grazie